La DEM Venice Art Gallery promuove artisti internazionale. Oggi qui abbiamo il piacere a Venezia di ospitare un giovane artista 24enne francese, Ralph Gallego. Ralph, Raphael ci propone un'opera estrosa e molto ironica. San Cristoforo, il patrono degli automobilisti, viene rappresentato alla maniera del futurista, richiamando le opere soprattutto di Balla e di Boccioni. Mentre sta questo moderno santo attraversando in bicicletta le rotaie del tram milanese. È un'opera ricca di movimenti, forme e colori, giovane e fresca come suo esecutore. Ralph Gallego, un artista su cui investire. Grazie a tutti.